Juve in difficoltà, Juve in difficoltà sulla nostra pressione, poi Alexandro la mette in mezzo, fallo, fallo di Borucci, fallo di Borucci, su Buolaventura si trattiene Borucci, vuole protestare, c'è il fuoco dentro ma non va a fare orsato quello che fa Rizzoli Borucci. Certo, vediamo, calcio di punizione nostro, dai che Mario la mette bene adesso, dai. Non riesce a servire Boa, eccolo Boa, che mette il piedone, bravo Boa, è nostra, è nostra, che deve cambiare la rimessa laterale perché lo chiede l'allenatore avversario, vediamo Evra, vediamo Evra, perde tempo, vediamo.